Polk Reisteiger SC Stesse caratteristiche del modello che abbiamo visto precedentemente, l'RC, cambia sostanzialmente le geometrie, un raggio di curva un pochino più stretto, intorno ai 13-14 metri. Abbiamo sempre una costruzione a fianco dritto sandwich formata da legno e fibre di vetro, punta leggermente rocker, sistema antivibrante uvo e la nuova piastra in unica soluzione con nuovo attacco V-Motion.